Xiaomi non è ancora esattamente una delle aziende produttrici di dispositivi mobili che allo stato attuale può essere definita come globale e, infatti molto probabile che se chiediate ai vostri ami, ci di Xiaomi, questi non abbiano mai sentito parlare della Apple cinese. Questa condizione comunque, fortunatamente per lei UNENDCO, sta andando via via modificandosi, dopo aver raggiunto il terzo Q, quarto posto nella classifica mondiale dei produttori. Anche alcune importanti testate giornalistiche, non di settore, italiane non hanno dedicato dello spazio alla società pechinese. Un risultato I.M. portato se consideriamo che Xiaomi ha visto la luce solamente cinque anni fa, non dobbiamo stupirci. Dunque, se la compagnia stia ricevendo applausi e grande consenso praticamente di da parte di tutti, Competitor esclusi, il suo fondatore, nonché amministratore delegato, lei UN ha le idee chiare e L, o sta facendo vedere, circondandosi di numerosi e validissimi manager, tutti con grande curriculum, Nel corso dell'ultima conferenza cinese di internet, Jun salito sul palco per testimoniare la propria riesperienza, ha accolto l'occasione per ricordare alla platea i grandi risultati maturati dal group, o da lui amministrato, oltre 70 milioni di utenti attivi. L'obiettivo per il 2015 è di giungere a Q.O.T. 200 milioni, 1560 miliardi di yuan, circa 203 milioni di euro, fatturati nel solo 111 novembre, giornata dei single, e C.E.C., obiettivi a breve e lungo termine quelli di Yun, che in mente non ha, solamente la conquista della Cina ma bensì quella del mondo, secondo il C.E.O. di Xiaomi infatti, la zi, enda nel giro di 5-10 anni potrebbe concretamente diventare il primo produttore al mondo, voi che ne, pensate, anche noi della redazione abbiamo pareri diversi a riguardo, fatecelo sapere nel box.com, nt.in.